Eccoci qui, good evening, ladies and chamberlain, oggi toni un po' diversi e finalmente la luce è accesa, perché questo non è un horror, meno male, anche se non è che suomo lo fosse così tanto bene. Ciao Mattia, allora, produsso Maximen, io personalmente lo metto sempre come esterno, però, eccolo là, subito, vabbè che sei in linea, età puberale, ma, eh... Sì, ma te stai zitta un attimo che sto facendo l'introduzione, per cortesia. Dicevo, questo è Detroit Become Human, è molto diverso da quello che abbiamo fatto finora, è una di quelle storie con infiniti bivis, in realtà non è della stessa... stiamo parlando della stessa gente che ha fatto i V-Rain, quindi fatevi un paio di domande. Ci saranno infiniti modi per far andare avanti la storia, noi ne sceglieremo solo uno, che è semplicemente il modello Ferretti, vale a dire, a cazzo di cane. Beh, no, niente male come mossa di mercato, Mattia, ci sta. Dicevo, il metodo Ferretti a cazzo di cane, non ho la benché minima idea di come si può sviluppare, possono sviluppare le scelte, chi sono i personaggi, cazzo e mazzi. Come va? Va, lo facciamo una volta, se muoiono tutti, se si salvano tutti, qualunque cosa succeda, stai zitta. Mi stai già rompendo... Ho capito. Perché mi stai facendo tremare il palco? Comunque, cominciamo perché mi ha già rotto i coglioni. Quindi, partiamo. Ripeto, io non ho la benché minima idea... Per quello che sto dicendo, non ho la benché minima idea di cosa ci sia in questo gioco, nel senso, come si articola la storia, i personaggi, niente di niente. Ho visto giusto un paio di mime, ma cazzo, niente di più. Probabilmente potrebbe non essere chissà quale esaltazione. Ok, 15 agosto 2038, noto di ferragosto. Ho lasciato i dialoghi in italiano per capire il più possibile. Per evitarmi anche gli spiegoni, che non sono proprio il massimo della vita. Hopperò. Ah, ok, sto già controllando il... Cazzo fatto, non lo so. Sto già venendo da vomitare male. Ok. Ok, i comandi sono tipo Heavy Rain. Quindi... Che c'è in terra? No. Non potevo... No, qui non c'è Batshuaymen. Mi spiace. Sento, l'odore di razzismo qui, eh. Per contornare ai dintorni, ok. Ah, va in freeze. Si può correre? No. Eh no, oggi... Oggi basti tu, perché... Insomma. Un po' troppa gente. Sai! Dai! Mi servono informazioni per stabilire l'approccio. Ha mai manifestato comportamenti anomali, ti mandorlo? Sostieni. Salvare la bambina è ciò che conta. Perciò oggi pensi tu a questo android. Oggi penserò io. Madonna santissima, ma che... Abbiamo capito che... Insomma. Collaborazione è zero. No, solo io in teoria. Ah, bene. Due indizi da analizzare. Tipo? Manca una pistola e fin qui ci arriviamo. E devo presumere che manchino anche i proiettili, perché sono... Ok, come do... Come funziona sta cosa? Ah, ok. Sto vedendo cosa è successo, in teoria. Sto facendo un rewind. Ok, ha preso la pistola. Non credo che sia migrata, piuttosto... Ok. Non c'è più che... Anzi... Il termine giusto più che razismo è, come si dice, discriminazione. Ok. Cazzo devo fare mo' fare mo' però. Abbiamo varie opzioni. Mi roda un po' il culo che non si può correre, però. Quindi questo ci danneggerà, diciamo, a livello di... No, fa un culo però. Ma non ha sentito gli spari. Perché aveva le cuffie. Aveva le cuffie, ok. Ah, sul touchpad, ok. Madonna santissima, sti comandi di merda! Ok. Quello che non ci ha detto il simpaticissimo capitano, l'abbiamo scoperto da noi. Andiamo in qualche modo... Ah, meno male. Perché è sempre una bella rottura di cazzo, quando non va. Si va di là. No, non è nera. Il razismo nel senso, nei confronti... Ah sì, il pesce, ok. Cioè, il razismo nei confronti degli androidi, eh. Non... E' la cosa di importante analizzare il pesce? Sento l'odore di scelta morale qui, visto che l'ho... L'ho ributtato dentro, eh. Ok. Cosa cazzo dobbiamo fare? Senza dell'ostaggio. Dovevo approfittare anche di sta cosa delle... Oh, ecco. Immagino che ci tocchi esaminare il cadavere, vero? La gente è intervenuta per primo. Ok, studiamo un attimino la... Eh, giustamente, i fori di pistola, che saranno... Compatibili... Con quelli della pistola che abbiamo trovato. Ho sparato male, insomma. Segni di collutazione, immagino. No, residuo di sparo. Ho provato a sparare. Poi... Questo l'abbiamo già visto. Beh. Ah, ecco. Deckard, dai, sul serio. Sta citazione a Blade Runner, no, eh. Vi ammazzo prima. Allora. Ah, ecco. Anche a seconda della... No. A seconda dell'inquadratura. Ecco, così. Ho già assistito alla sparatoria. Ok. E successivamente... Ok. C'è stato... C'è stato uno... Una risposta di sparo. Oh, me ne dà anche uno prima. Eccola, la pistola... Nel poliziotto. Che è lì. La bambina, immagino, sia sul tetto con... Con l'altro android. Conviene prenderla perché non si sa mai, eh. Ok. Direi che non abbiamo... Aspetta, mi dice di analizzare. Immagino... Sia il liquido... È quella che si è vista nel... Cosa di prima? Nella cornicetta. Sangue blue flag. Ah, giusto, delle androide. Ok. Stiamo raccogliendo informazioni, ma... La scarpa della bambina. Questo stagio è ferito. Non so come, più che altro. Eccolo lì. Bisogna capire per quale ragione sta compiendo l'insano gesto. La cosa è che non si può correre, però mi sta iniziando a dare sui nervi. Ecco, il padre. Ah, occhio a dire che è stato sparato e scaraventato sul tavolo. Ma... Potremmo portarlo all'addome. Ok. Sono cose che capitano nella vita. Ok, infatti, è il padre. Altre macchie... Altre ferite. Questa era la battuta da Marco, più che da te. Mi hai... Mi hai sorpreso. Manca uno. Dove cavolo, eh? Do sta? Illuminatemi! Questi li abbiamo già visti. Ecco, devo guardare da un'altra angolazione, tipo... Non so se sia... Non so se sia possibile. Devi risolvermi un attimino questi problemi di identità che hai, te. No, allora, non posso girarmi, quindi... No, ecco. Un'altra ferita che mancava. Ci ho avuto diversi spari. Ok. Deve arrivare proprio alla fine. Ha visto l'androgena con la bambina. Anzi, non neanche. Perché era di spalle. Stava stringendo qualcosa. No, allora, manca... Ecco qui. Ah, ecco. Stava guardando il padre. Ok. Ah, no. Questa col touchpad. Praticamente lo volevano rimpiazzare e lui ha deciso di... di farli fuori, che è meglio. Una cosa però la devo fare perché mi sta scrivendo qualcosa lì e non so che cacchio c'è scritto. Devo spostare l'inquadratura. Ok. Così almeno so che cavolo c'è scritto. Ma che mai volete io sul serio? Dai! Veramente. Ok. Direi che adesso possiamo provarci. cercare di... Eh, che cazzo. Aspetta almeno due secondi. Non avvicinarti o mi butto! No, no, ti prego, lasciami! Ciao, Daniel! Mi chiamo Goddard! Come sei, mio nome? Sa molte cose su di te! Sono qui per aiutarti! Ok... No... State calmi, non fate gli stronzi! Sì, di nome! Proprio come te! So come ti senti! Che cosa cambia se sei un androide! Se non lo lo vuoi! Infatti, tu non capisci come mi sento io! Mmm... Sei armato? No! Non ho una pistola! Tu metti! So che hai una pistola! Eh, cazzo, ma sei bastardo! Non ho già vista su Insta, non ti preoccupare! Sono venuto disarmato! Volevano sostituirti, e la cosa ti ha scosso! È andata così, vero? Sì, 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 sì... Proviamo la strada della comprensione! No, sarebbe peggio se gli sparassero! Sì, 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 E voglio una macchina. Una morta fuori città la lascerò al libero. E vabbè fanculo. Io ci ho provato a negoziare. Fatti fottere. Si è inghiudato dopo gli spari. Missione compiuta. Siamo mezzi morti ma missione compiuta dai. Meglio di niente. Non credo che morto sia la parola giusta. Probabilmente adesso lo aggiusteranno. Ok. Il diagramma della scena. Pesarlo per vedere le scelte fatte. Quando ancora venite a traprendere le possibilità sbloccate. Ciascun nodo ti farà guadagnare i punti. No ci mancherebbe altro che è finito il gioco. Abbiamo appena iniziato. Ciascun nodo ti farà guadagnare i punti. Vabbè. Era anche un E' anche bello Bello ramificato a livello di Di scelte. Non si dice Quando l'ho pagato. Settembre 2038. Quindi qualcosa mi dice che ci hanno risistemato o no. Questo forse è un altro modello ancora. Siamo un androido in vendita. E ormai sai che novità. Porca troia. Vabbè direi. Per tutto quello che fa. 8 mila dollari anche a tasso zero ci stanno. Ah si. Beh. Sono vagamente contento per lui. Ok. Ma non posso fare proprio nulla. Devo continuare così. Oh. In ciliega è stupido. Oh. Capisco. Comunque adesso è come nuovo ma abbiamo dovuto resettarlo. Abbiamo cancellato la memoria. Non mi spiace. Nessun problema. Bene. Ha un nome? L'ha scelto mia figlia. AX400. Il tuo nome. Cara. Mi chiamo Cara. Ok. E questo è un altro ancora. Giustamente perché Quantic Dream gioca a fare i filmoni e quindi deve fare anche i titoli di testa fighi. Ovviamente a livello grafico si sono fatti il culo a paiolo. Non potrebbe essere altrimenti ormai. Da quel punto di vista Quantic Dream è sempre stata un passo avanti. Tanto un monumento al fisting. Allora. Non so quanti protagonisti aveva questo gioco ma uno ce lo siamo giocati proprio dall'inizio. non è stata proprio una grande idea. Abbiamo provato a fare le cose per bene ma non ce l'abbiamo fatta. cosa è per ricaricare gli androidi. Ho perso il lavoro per colpa degli androidi. Ecco. Lì volevo andare a parare. Discriminazione e diffidenza. Perché quando si tratta di lanciare messaggi e quante Quantic Dream non si tirano indietro come potete vedere. Da quel punto di vista mi sa che potrebbe essere anche un po' pesantino come gioco. Anche già all'inizio è stato abbastanza eloquente da quel punto di vista. Purtroppo. Sai che stiamo per incontrare un altro androide ancora. Uff. Questa cosa, io questa cosa non la voglio neanche leggere, Mattia. Ok, questo è un altro androide ancora. Vabbè, questi poi li leggeremo magari quando avrò voglia. Ok, ma non posso proprio correre. Devo per forza andare a questa velocità. Non c'è modo di accelerare il passo. Gli altri corrono, io no. Andate a fanculo, eh. Per cortesia, eh. E probabilmente, come succedeva anche con Heavy Rain, probabilmente nel gioco bisognerà, come si dice, alternarsi tra vari, tra i vari personaggi. Un, dove, secondo, penso fossero tre. Uno l'abbiamo visto morire dall'inizio. E l'altro, l'altro è questo. Vediamo un po' come andrà avanti. Non... Avremo sicuramente modo di continuare a... Ecco qua. Cioè, avremo sicuramente modo di continuare a... Oh, e vai avanti. Continuare a vedere i... I vari personaggi. Qui è il GPS. Ok, devo andare da questa parte. Il colpo d'occhio non è... Molta puttana. Perché tanto c'è l'angelo, ed è vero? Ecco, adesso un po' mi girano i coglioni pure a me. Ma lascio perdere. Sento uno che sbraita. E beh, immag... Dicevo, immagino sia una delle funzioni dell'androide. Ricordiamoci che non devono provare emozioni, devono solo servire allo scopo. Come è scritto. Però... C'è qualcuno che magari non è... Non è d'accordo con noi, diciamo. E chissà perché sapevo che la religione la buttavano in mezzo. Sono rotti da questi, questi demoni artificiali. Perché mi guardi così, demonio? So chi sei. Vedo dentro di te. Sei il supremo portatore del male. E sti cazzi? Tu sei l'essere che distruggerà Detroit. Fratelli miei! Oh, mi grazie che non ammazzo te. Te lo meriteresti pure. No, devo andare davanti così. Madonna, la simpatia sta... Vediamo i film del 2038. Aspetta, allora. 3021. Invasion. Raken. Insomma, non è cambiato una sega. Tra 19 anni continueranno a dare degli action movie improbabili. Non posso interagire, eh vabbè. E allora entriamo. Non posso proprio dargli nulla, eh vabbè. Da dove cazzo si entra a sto posto? Ah, ecco qua. No. Ovviamente androidi da una parte, androidi dall'altra. Ecco il suo ordine numero 847. Solo 63 dollari 99. Confermare il pagamento. Confermo il pagamento. Qui proprio siamo... Al contrario magari di quello che abbiamo visto prima. Qui siamo proprio a... Ordini basilari. Non... Non credo sarebbe proprio... Estremamente realistico l'omino di film domestic come android. Quindi... Immagino non sia il caso. Da che parte bisogna andare di là? Un gioco. Questi proprio... Al contrario magari di quello che abbiamo visto all'inizio. Sono proprio il livello base. Fare... Fare quello che ti dicono. Punto e basta. Sì che lo so che non è da questa parte non rompere le balle. Sto andando dalla parte... Immagino ci siano vari tipi di... Di androide. Immagino. Immagino. Quando lo vogliamo. Che cosa... Immagino. Immagino. Dove vai omino di lanza? Immagino. Si fa su se. E gente abbiamo una di quelle lattine. Immagino. Immagino. Ecco qua. Guardatelo rostroso. Ci rubi il lavoro ma col cazzo che sei alzati. Mi ricorda qualcosa. Mi suona estremamente familiare tutto ciò. Decisamente. No 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 no. Cacciata via. Si. Vai da me a sua parte e ti abbiamo ancora pezzato merda. Se li distruggiamo? Oh. Ok. Basta così. Lasciatelo. Diamo una lezione questo bastardo. Bisogna vedere se soffrono o meno. Credo che sia proprio il... Il punto del discorso. Come possono arrivare a provare emozioni Possono anche provare a sentire dolore Comunque abbiamo capito il succo del discorso Dicevo ci sono dei Dicevo ci sono Diverse persone che non proprio sono estremamente d'accordo con Con tutto ciò che è androide diciamo Ok E prendiamo il bus Oddio il comparto per androide sa molto di Sa molto di segregazione razziale Diciamo che non è proprio il massimo da Però chiaramente dici Loro non provano emozioni Quindi sti cazzi se li segreghiamo da una parte Diciamo che ti costringe a fare un po' di ragionamento Da quel punto di vista Ok Questo invece è Marcus Quindi abbiamo trovato un altro Insomma qui non c'erano molte dipanazioni Anzi era abbastanza lineare Era un intermezzo Ok immagino adesso torniamo da cara Esatto Che stavo dicendo Ci saranno sicuramente Moltissimi salti Da un personaggio all'altro Comunque Presumo si tratti di una storia corale Comunque di una Di una storia comuna Che viene raccontata tramite tutti e tre i personaggi O comunque di O comunque di tre Dove cazzo stai andando? Dicevo di tre storie Legate al tema degli androidi In teoria lei non può essere depressa Perché non sa cosa Cosa significa Non sa cosa sono le emozioni Simpatitone Eccoti qui Eccoti di lei Coppiti bagno Tutte quelle cazze Capito? Sì Comincia a sistemare qui Poi vai di sopra Ok C'abbiamo anche una serie diversa di compiti Ok Madonna che divertimento Dove che dirai? Ripeto Lei non Non ha una coscienza sua Non ha una sua volontà Motivo per cui Accetta tutto questo Senza nessun problema Però considerato Il tipo di persona Che Che stiamo servendo Presumo che Possa in qualche modo Sbroccare La capirei anche Tra l'altro Perché Puttana miseria Abbiamo un bel poveraccio Vedo Giudicare da I vari Eh Se ci vuole portafoglio Immagino abbia Modo anche di comprendere Cosa Cosa sia Cosa non sia La spazzatura Tra l'altro Porca troia Ste telecamere Però No Buoni North North Corkton Better place Stelea Ok Quindi c'è anche un po' di Fermento di costruzione Qui a Detroit Allora Eccola qui l'immondezza Ma Cazzo nel 2038 Manco la differenziata fate Siete proprio delle merde Allora Non so perché il pullman Fosse un motivo di interesse Comunque Ritorniamo dentro Intanto creschiano Gli spettatori Stiamo facendo dei I grandi progressi Io riferisco Se si sta fermo Due secondi Magari Ah Che bello Dicevo che Che padre esemplare Che si Che si scalda E qua purtroppo C'è poco da parlare Ignorante Perché L'argomento È Elevato No comunque A parte gli scherzi C'è Dicevo che padre di famiglia Meraviglioso Che si squaglia La pipetta di crack Davanti alla Davanti Con la bambina in casa Il massimo della vita Proprio che abbiamo qui Prima di salire di sopra Magari Butto un occhio al bucato Che non stessa mai No Non possiamo fare nulla Più che gentile Proprio è un'autentica Testa di cazzo Diciamo le cose come stanno Non c'è bisogno Che me lo metti Una scritta gigante Per terra Dicevo che dobbiamo già Cominciare a raccogliere Perché vedo un po' di Di schifezzuole Mamma mia Che ambiente salutare Proprio È il caso di dire Quarterback androide Addirittura C'è là ci da porta a porta Di colpire un bersaglio grande 15 centimetri Madonna Cioè se vedo una cosa del genere Veramente Sì da parte quello Comunque è un È un gioco che ti costringe Un po' a ragionare Su cosa sta succedendo Nel mondo con la tecnologia Sarebbe molto interessante Approfondirlo però I tempi I tempi I tempi di Twitch Sì di Twitch I tempi di Twitch Qui sono Quelli che sono Parliamo di base I Gears Si preparano A una partita decisiva Di stasera Contro Denver Alla Cyberline Mentre il Comitato Nazionale Sta valutando la possibilità Di ammettere un giocatore Altroide per scuola Il dibattito è acceso Questo potrebbe rendere Guardate più a mincene Oppure potrebbe rendere Obsolenti giocatori umani La Cyberline Si è resa disponibile All'esperimento Giustamente Dietro da piston Sono diventati Gears E mi sembra giusto Da pistoni a ingranaggi Ecco un altro Un altro effetto Dei Disoccupazione Ai massimi storici Il telegiornale Vabbè Andiamo avanti Spegniamo tutto Ah proprio lo accende C'è manco bisogno Del telecomando Ok c'è qualcosa Che non dovevamo vedere Oh cazzo Un'idea di sostituzione Eccola Ci manca solo Che le viene lo sghiribiz Oppure a lei E ne perdiamo un'altra Ecco Stavo sbagliando il comando Per una che mi fa Il letto così Semplicemente Semplicemente Si sta mandando La trapunta La lenzuola La voglio anch'io Non lo so Fin quanto rimango Sono già le 10-20 Dai Più o meno Un'oretta Doviamo a farla Anche perché poi Devo avere il tempo Materiale Di scaricare La live Per postarla Per su youtube Allora Ah era la stanza Wow Io già non parlo Ignorante Io già Già non parlo Ignorante Ma questi proprio Sono messi meglio di me Puttana miseria Sono tipo 10 anni Che non usavo Il sensore di movimento Lo hanno usato Solo per questi giochi Cazzo Deve ringraziare Che non ha emozioni Perché sennò Ti avrebbe ucciso Da 20 minuti Tipo Compili facoltativi Cos'era Pulisci il bagno Due volte Perché al minimo Ci sono due bagni Allora Vediamo un po' Ecco Mi hanno risparmiato Il primo piano Dello stronzo Grazie Vi ringrazio di cuore Vi ringrazio Vi ringrazio Di grandissimo cuore Per non avermi Per avermi Dicevo Per avermi evitato Di vedere Cose che non dovevo Però avrei apprezzato Un attimino Una riproduzione Una riproduzione In 3D Di Di un Di Di un Di uno stronzo Sarebbe stato interessante E pulisce il pavimento Lo straccio sta lì Dai Madonna santissima Solo questi Riescono a usare Il touchpad Non ho anche capito Come lo devo usare Tra l'altro Ah ecco No Però se la vassi Io per terra Bloccandomi In 5 secondi Come fa lei Non sarebbe Il massimo Ok Pulito il pavimento E andiamo Dalla Andiamo Dalla Bambina Sembra spaventata Quindi qualcosa Mi dice Che c'è stato Un incidente Pesante Abbiamo guadagnato Un po' La sua fiducia No Più che pedofila Probabilmente Violenta Magari Indottrinata Dal Simpaticone Dal padre Simpaticone Ne è diventata Complice Che magari E' quello Il motivo Per cui E' stato Necessario Resettarla E rifarla Da zero Come Qualcosa mi dice Che possiamo Esatto Farci due Chiacchiere Forse Forse eravamo amiche Prima del 2007 Potremmo esserlo Ancora Tuo padre dice Che hai scelto Tu La mamma Cara Ebbene Come l'hai scelto Come sta la mamma Tornano presto Credo Ho fatto una cazzata Esatto Sembrerebbe Di sì Invece Vaffanculo È dato qualcosa Una chiave Per che cosa Ecco La chiave La chiave Dello scrigno Beh Spina nel culo È progettata Per non avere Emozioni Te lo ripeto Quindi è normale Che sia Come si dice Asettica In realtà Immagino Quella sia la mamma Che ora Non c'è più Devo fare Andare in tizione Ecco I disegni Lascia intendere Quello che Già si era Già si era Intuito Ovvero Che papà Fosse un simpaticone E che soprattutto Sia stato lui A romperci L'ultima volta Esatto Esatto Direi che a questo punto Vediamo di scambiare Due chiacchiere Con il nostro Padrone Simpaticone Il nostro amorevole Il nostro amorevole Padre non è strafatto di crack Che fai Sto giocando Oh cazzo So che pensi Pensi che tuo padre sia delinquente Ascoltate Non trovo lavoro Non si occupa della famiglia Non crede che ci abbia provato A far funzionare le cose E come Fumando crack Nel soggiorno Così Vabbè No la bambina no La bambina bambina A me sembra proprio che sei Soltanto una 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 mastodontica A testa di cazzo E basta Poi magari sarò io Però Praticamente abbiamo tirato su tutto qui Sì Gli dava un Gli dava un'idea È vero È meno vicido Ma più uomo di merda Direi che se abbiamo cambiato Completamente ambientazione Siamo passati In soborghi più colorati Esatto Siamo tornati da Marcos Che ha preso il pullman Adesso probabilmente Porterà il Il pacco Al suo padrone Slash proprietario Slash Slash Membro della famiglia Non so come Perché chiamarlo padrone È effettivamente offensivo Chiamarlo proprietario Ugualmente È un po' complicata Da Da spiegare Insomma Allora Cosa ci abbiamo qui Occupati di Carl Ok Sappiamo anche come si chiama Cosa vuol dire acce Dai ma porca puttana Pure Dai Anche gli uccellini androidi Questa è molto triste Come cosa Un birb droid Questa è una finestra Ci mancavano i birb droidi Si aprono da sole le porte Figo Sì Poi ti si chiudono in faccia Molto bello Devo dire C'è qualcosa lì Di che si tratta Sembrerebbe di no Sto parlando Il setup Per la colazione Che la tattina Con il sorriso Mi sembra giusto E prepariamolo Ok Il tavolo di soggiorno Beh Cazzo fai No Non si esce da qui Si esce da qui Eh vabbè Il tavolo di soggiorno Quindi questo Si Ma porca puttana Sei un androide Me lo metti storto Sul tavolo Vabbè Mi risparmio le battute La Russia vuole il polo nord Vabbè Cos'è che non si prende La Russia Di solito Ebbè Immagino Non sia proprio Un povero Un povero Come poteva essere Todd prima Immagino Anche questo Faccia parte Della Della storia Della diversità Degli ambienti Abbiamo un Abbiamo un andro Abbiamo un androide Di una Di una famiglia Con un padre Violento Abbiamo un androide Con una Cioè abbiamo Un androide Invece magari Di un Di un uomo Un po' più Facoltoso Eh si cazzo C'è una giraffa Ed era anche bella grande E ho Praticamente Fatto finta Di non accorgermene Vediamo La pulita qua Che c'è un casino Della madonna Madonna mia Filippino Simulator Si doveva chiamare Ma A tutte a parte Chiaramente E un po' anche Roleplay E un Mi guardo intorno Magari Mi sono Dimenticato qualcosa Infatti No Non credo Anche perché A vedere un po' Il Come è il soggiorno Questa stanza qui Immagino sia Tipo un'installazione Artistica Un Una statua Eh infatti Me la fa anche Guardare nel dettaglio Dov'è Esatto È una È una statua E vabbè ormai Tanto L'Udinese Era una succursale Lo sappiamo Che va così Quindi Neanche mi Neanche mi scompongo Che c'è nel tavolo Un'altra rivista Non è quella È quella di prima Vabbè Lasciamo perdere Non è importante Do cazzo E a questo punto Andiamo a svegliare Il nostro Carl Si deve Si tratta sicuramente Di qualche tipo Di artista Un Scultore Slash Pittore Devo pensare Che questo sia Un montascale Tipo Non voglio Non sono sicuro Ma Penso di sì Ok Svegliacarlo Di sopra Ma di sopra Dove Immagino Di sopra Qui Per tirare le tende Giustamente Eh sì Ok Anche dai tatuaggi Si tratta di Capito tutto Della vita Non sta la medicina Eccola lì Ti avevo dimenticato Ecco Questa è la differenza Tra me e te Ero e Marcos Non dimentichi mai niente Per favore Danna il braccio Carlo No Carlo Ti ringrazio Beh sicuramente Ho appena aperto gli occhi E già devo stringere i denti Gli umani Sono macchine Così Fragili Eh Sono un po' In fretta Tutti questi sforzi Per farle funzionare Eh I tuoi vestiti Non è niente Un paio di contestatori In strada Carlo Che branco di idioti Pensiamo di poter fermare il progresso Malmenando qualche androide Sostituite androide con omosessuale Abbiamo più o meno un quadro Degi giorni moderni Devo presumere che Quella carrozzina Sia la sua Esatto Ah Devo presumere appunto Che si tratti di un Paralitica Grazie per avermi evitato Lei ha inquadrato nel bagno Eh sì Stiamo parlando di Di un artista Uno che sicuramente ha vissuto Una vita piena Ah no mia Mattia Veramente Ok Portiamo lo spasso Dovevo intuirlo dal Dal montascale Che Si trattasse di un Di un disabile Un altro gol E vabbè ormai Ripeto Cosa la guardiamo a fare La serie A Si tratti Se immagino Dovevo traslocare Dalla seggiola Alla sedia No? Ok Televisione Ok Il bavaglino Siamo Bastante Ma tutta servizievole Ragazzo Mentre faccio colazione C'è E allora Kids Quindi la poesia Shakespeare Platone Andiamo sul Andiamo sul Filosofico Cosa la guardiamo a fare Credo che mi piaccia la filosofia, pone domande a cui non so rispondere, cosa è giusto e cosa è sbagliato, per esempio. Non è così facile intuire la differenza. Porre domande che non hanno risposta fa parte dell'essere umano, Marcus. Un giorno non potrò più prendermi cura di te. A me sembra il contrario. Se chi è diverso, Marcus, non permetterà a nessuno di decidere se. Andiamo nello studio. Sembra proprio una relazione tra allievo e maestro, ok Mattia? Dicevo, sembra proprio una relazione tra allievo e maestro più che tra un android e il suo proprietario. Per quello parlavo di... quello dicevo che era complicato dire che cosa è... quale fosse il termine giusto. Ha il supporto per continuare a ripingere. Togli il lenzuolo. Eh, togliamolo. Ah, però. La roba è di un certo livello. Pulisci lo studio. Ah, aspetta, mi sono dimenticato dei passaggi, allora. Continuiamo a raccogliere le roba, allora. Ma, ma è un casimista, eh. È tutto che è paraplegico. Pensa se avessi avuto anche le gambe. Ci stiamo dimenticando qualcosa? No, ok. Dobbiamo aspettare che... Che parli. Dobbiamo attendere il da farsi. Non possiamo proprio fare nulla. Dobbiamo aspettare che finisca... Che ci dà degli ordini. Credo ora ci darà qualche indicazione. Ah, sì, dai. C'è qualcosa di sfuggente. Qualcosa che mi riesco a definire. Credo che mi piaccia. La verità è che non ho più niente da dire. Ogni giorno che passa mi porta più vicino alla fine. Sono solo un vecchio aggrappato ai suoi pennelli. Ma basta parlare di bene. Vediamo se tu hai talento. Provaci. Prova di pincere. Di pincere. Ma che cosa è quello che vuoi? Da quello parlavo di una relazione tra l'ero e maestro. Mentre che se prende cura di lui, praticamente gli insegna a diventare umano. Da qui anche il titolo, che a questo punto diventa azzeccatissimo. Ok. La statua. La scrivania. No, proviamo la statua. Le pennellate. Il touchpad si presta bene per queste cose. Ma almeno gli abbiamo trovato un senso. Eh che cazzo però. Eh appunto. Troppo perfetta. Esattamente. Sono programmato per questo. Coraggio. Su. Prova. Prendi quella tela. Fai una cosa per me. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Fideli. Prova a immaginare qualcosa che non esiste. Qualcosa che non hai mai visto. Ora concentrati su come ti fa sentire. E lascia che la mano scivoli sulla tela. Doviamo essere ottimisti. Humanità e speranza. Ecco. Boom. Touchpad. Cazzo fai. Oh. Hello. Ah ok. Devo partire da un punto preciso. Non l'avevo mica notato. Perché è un punto preciso. E toccare un punto preciso. Porca miseria. Se lo sono studiati bene sto cazzo di touchpad qua. Almeno. Tipo la prima volta che lo vedo usato come dio comanda. Cato lo io. Eh sì. Ma qualcosa mi dice. Ecco qua appunto. L'euro. Non gli ho sentito entrare. E' un po' di solito. E' passato un po' di tempo eh. Mi sembra un attimino fatto pure te eh. Stai bene? Non sento in furia. Oh sì sì sto bene. Ehi sentiti. E' un po' di solito. Non avevo dubbi. Ancora. E' quello che ti avevo appena dato? Oh beh sai finiscono e basta no? Tra l'altro. Vabbè ormai. Ti stai facendo alcuna vera. No. No ti giuro. Questa piaccia di Gianandrea si sente dappertutto quindi. Bisogna di soldi tutto qui. Mi spiace. La risposta è no. Cosa? Perché? Lo sai perché. Certo. Certo so perché. Preferissi occuparti del tuo popazzo invece che di tuo figlio. Beh almeno il popazzo non si fa scusami eh. Proprio me l'hai fatta uscire di. No ripeto secondo me perché non si droga. Poi fai quello che vuoi. Ripeto finchè ti droghi è normale eh. Insomma abbiamo visto che sono tutte storie con luci e ombre. Comunque per ora erano tutte erano tutte vicende che avrebbero comunque portato tutte allo stesso svolgimento. Quindi per ora siamo su una strada abbastanza lineare. Adesso vediamo un po' verso dove andiamo. Vediamo chi è rimasto. Oh. Allora non era morto Connor. Oh meno male. Quindi significa che i personaggi sono ancora tre. Non ne abbiamo ancora ucciso uno. Meno male. Addirittura. Lughi vietate gli android. Sì beh. Ripeto. Sento un piacevole odore di segregazione razziale. Trovo il talenter adesso. Come si scansionano i volti. Mi schiumi. Immagino sia lui giusto? No. Devo girarmi per far sì che... Ok. Non è lui però... Non sono nomi e cognumi di chiunque. In barba alla legge sulla privacy proprio. Devo presumere che sia lui. Però non si gira quindi... Non penso sia neanche lui. Esatto. Non è neanche lui. Non è neanche lui. Ecco a palle. Madonna. Un intero locale per cercare sto cazzo di tenente. Non penso nemmeno che sia uno di loro. Ma noi un controllino lo facciamo. Esatto. Non è lui. E devo pensare neanche lui. Esatto. Adesso me ne vado. Stai calmo. Non è nemmeno lui. Quindi. Se tanto mi da tanto. Il nostro uomo. E' questo signore qua. Questo è molto da androide. Un androide della Cyber Life. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le immagini. Non mi serve nessun supporto. Specialmente da un coinvolto in plastica come te. Perciò fa il bravo robot levati dalla panna. Ok. Andiamoci con calma. Ok. Mi spacca il bicchiere in fronte. Mi scusi tenente ma devo insistere. Le mie istruzioni mi obbligano ad accompagnarla. Sai dove te le puoi ficcare le mie istruzioni. Eccolo. No. Dove? Pure. Ma sei scemo al... Vabbè sì. Non va. Non funziona. Facciamo così. L'ultimo loco proibito. Che ne dice? Barista. Un altro per favore. E' bastato un drink. Ci vuole così poco in questi casi. Hai detto amici. Eccolo qui. Sembrerebbe casa di Cara. Cioè la casa dove lavora Cara. Quindi mi sa che ci abbiamo preso. Mi sa che ha sbrocchiato sul serio. Madonna. Ho il dovere di accompagnarla sulla scena del primo. Tenere. Senti. Non mi frega un cazzo. Dei tuoi doveri. Ti ho già detto di aspettare. Perciò sta zitto. E aspettate. Madonna. Uno. Uno simpatico proprio eh. Non riusciamo a trovarlo. L'unica cosa che dobbiamo fare è seguire il tenente. E dagli eroghi non possono proseguire oltre. Lui è con me. Beh. Ma. E dagli eri da Casimo pure qui. Buonasera. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivi. Piena. Quello poi ha sbocato il vostro. Quindi. Ti sei preso un androide eh. Ah divertente. Sì. Sì. Allora. Cosa abbiamo qui fuori. Nulla. Dobbiamo continuare a seguire il tenente. E' venuto a dare un'occhiata. E' così. Ha trovato il volo. No anzi. Non è la casa dove lavora Chiara. Ok. Manomale. Oh sì. No no no. No no no. Questo ho capito perché hanno scomolato il mondo. C'è un coltello da cucina. Forse è la madre del letto. Qualche segno di effrazione. No. Il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbavate. Il killer sarà uscito dal metro. Cosa sappiamo del suo androide? Non molto. I vicini dicono che ne hanno da uno ma non c'è il nostro arrivo. Devo prendere un portale. Mettiti fuori comodo. Così a intuizione secondo me c'entra l'androide. Poi magari sarò io prevenuto eh. Però. Allora. Buttiamo un occhio sul coltello. Preleviamo il sangue. Fa un po' schifo che lo debba assaggiare per fare il... Ma che cazzo fai? Sto analizzando il sangue. Posso controllarlo in tempo reale. Mi scusi. Dovevo avvisare. Ok. Però no. Infilarti altre prove in bocca è tesi. Certo. Allora perché non ci posso credere? Da che me è 19 giorni quindi sì. Tre settimane aveva ragione il... Il collega. Poi. Impronte. Esatto. Non possono esserci... Impronte digitali. Ok. E' una cosa l'abbiamo... Sto calpestando una prova. C'è una macchina di sangue. Altro sangue del... Era uno che sapeva divertirsi, vedo. Continuiamo a frugare in giro. Abbiamo una prova proprio sotto i nostri piedi. No. Ah no, è questa. Una macchina di sangue. Altro sangue. Sembra... Sembra che l'abbia inseguito per tutta la casa. Sarà mica altro sangue qua? No. Però c'è una bella... Ecco, all'interno ci sono impronte. La porta era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Connix numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No. Questo tipo di suono trattiene le tace. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Guardate, non è scappato di qua. Ok. Quindi se è scappato, sarà scappato dalla finestra, tipo. Ok. Altro... No. La porta è digitale della vittima. Quindi sì, segno di connotazione. Che era... Dove volevo arrivare? Ecco, probabilmente devo pensare se c'è sangue della vittima ammaccato... Tracce di Tyrion. Quindi questo significa se ci sono le impronte di Ortiz. Esatto. Ortiz ha provato a difendersi. Esatto. E' stato attaccato. Ok. Quindi... Sai però praticamente è legittima difesa. Continuiamo a frugare in giro. No, c'è qualcosa anche lì. Il sesso androide vince. Bene. Che bello. I passi avanti che faremo nel futuro. C'è qualcosa nella finestra. Non ho capito. il vostro androide vi spia? Mi ricorda qualcosa. Ha trovato il nuovo business di Zuckerberg, no? può essere stato un attacco di paranoia di Ortiz considerato il lavoro che faceva perché devo presumere diciamo che non si guadagnasse da vivere onestamente con una faccia così non credo facesse il contabile Ok. Vabbè là è sdroga comunque sostanzialmente. Graffi 28 coltellate moraggine interne si è divertito insomma. Allora facciamo cosa ha nella mano segni di collutazione Ci mancherebbe altro che sono le sue poi vediamo un po' allora è stato sicuramente messo al muro no aspetta è scivolato sulle bottiglie ma questo prima perché era già stato accoltellato esatto mi venivano dalla cucina ok ok la scritta troviamo anche quella ho detto che dovrebbe essere il sangue di Ortiz giusto Cyber Life Science wow l'avete davvero allora mi manca qualcosa da controllare sì questa roba qua buibite è ovviamente e ovviamente droga non facciamoci mancare nulla esatto facciamo cosa di droga quello l'avevamo già intuito dalle tracce nel naso e poi c'è qualcosa qui non so perché si inchioda ogni tanto c'era qualcosa qui eccolo lì c'è qualcosa lì nell'armadio vediamo di che si tratta niente di che non era questo che dovevo controllare mi manca una prova sola voglio prima furgarle tutte per poi andare a discutere con il nostro nuovo amico perciò devo continuare a cercare in giro perché continuo a dire che io non riesco a usare sto cacchio di ok no Mi verrebbe da dire che il nostro amico Ortiz fosse un filo paranoico. Abbiamo letto l'articolo, si è andato fuori di testa, ha provato a distruggere l'andruide e l'andruide ha distrutto lui. In cucina. Ci sono segni di collocazione, la domanda è cosa è successo di preciso. La vittima deve aver attaccato l'andruide. Con la mazza. E questo l'abbiamo visto. Questo corrisponde ai nemici. Continua. L'andruide ha pugnalato la vittima. Ok, sì, perché è successo esatto. E dopodiché ha insistito. E la vittima è scappata. In salotto. Prendendosi altre coltellate. È caduto sulle bottiglie. E poi è morto. E ha provato a fuggire dall'andruide. Sì, ha senso. L'andruide ha ucciso la vittima. Con il coltello. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio. Ma non ci dice dove è finito l'andruide. E vabbè, mica ho potuto dire tutto io. Sto contando che sono bastate tre settimane. E scommetto che tu riesci a vederlo, però. Esatto. Già. Quindi adesso, esatto. Bisogna cercare le tracce. Ma chiaramente non le tracce che partono da qui. Però non le vedo altre, quindi... Bisogna seguirle per forza. Scusa se... Eh, che cacchio. Ok. Non può essere tornato in cucina. Perciò, esatto. Abbiamo proseguito da questa parte. E qui c'è qualcosa. E quindi si è nascosto in solaio. E' la necessaria questa suspense per far cadere le... 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 Oh. Sono delle robe strane scritte. Esatto. La scrittura ossessiva è... Una staturina abbastanza inquietante. Adesso c'è qualcosa per salire. Da dove minchiamo lo tolgo. L'inquadratura è quella che è. Vedo, eh. C'è una scala da qualche parte, no? Ah, però posso prendere l'altra... L'altra sedia perché non è una prova. Ok. Ah no. È pur sempre una prova, però... Ce ne fottiamo i coglioni. Ok. Vediamo un po'. Che cosa si trova su? Qualcosa mi dice che... C'è ancora qualcuno in soffretta. Il nostro assassino. Se non è il nostro assassino... È qualcosa che ci somiglia. Infatti, un cazzo di bambolotto. Vabbè. Facciamo perdere. Allora. No, non posso cambiare la telecamera qui. Non so cosa sia quella luce. C'è qualcuno. Proprio si è visto chiaramente. Avevamo detto che non è un horror, però... Se mi manca solo del jumpscare, vi prendo a calcio in bocca. Proprio ve lo dico dal cuore. E' un attimino andato fuori di testa. Beh, immagino... Mi avrebbe ucciso. Però puttana troia. 28 coltellate. Che si funziona? Non ti dirò. Connor, ma che cazzo sta succedendo? Io non voglio fare l'amico delle guardie, però, ragazzi. Ci han chiamato per quello. Vieni, venite! Esatto. Allora. Crecci! Ben! Venite immediatamente qui! Abbiamo buttato un android al gabbio. Quindi direi che possiamo chiudere così per oggi, dai. Mi aspettavo di peggio da Detroit, quindi è stato abbastanza interessante. Sicuramente ci sarà da divertirsi anche nelle prossime occasioni. Direi che per oggi abbiamo finito. Domani sul canale ci sarà il... Domani, per chi sta guardando la live, per chi lo sta guardando su... Si sta guardando la replica su YouTube sabato scorso. Il video sulla prima vittoria su Apex. E domenica, cioè sempre... Vabbè, sì, domenica 10 marzo. Comunque, chi lo vedrà su YouTube settimana prossima ci sarà già il video sulla playlist. Presumo. Dipende dai tempi di Kiko Droega. Sul Twitch di Computer Point è in hosting su Italia Gaming Championship la quinta etapa della STL, della Sardina Tekken League. Quindi direi che abbiamo finito. Non è stato niente male, ho visto anche un po' di gente. Quindi, non dimenticatevi che mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, vi fate bene, iscrivetevi, iscrivetevi e fate bene. Bene, I'm JackDweeper e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.